È stato fissato per il prossimo 9 ottobre il nuovo incontro della cabina di regia della regione toscana con i gestori del trasporto ferroviario Tranitalia e RFI sulle criticità della linea Firenze-Arezzo, al quale parteciperanno anche i sindaci del Valdarno, Aretino e Fiorentino, che da luglio chiedono la convocazione del tavolo. «Purtroppo dobbiamo constatare che le criticità continuano a persistere per tutti quei pendolari che si rivolgono al servizio quotidianamente per raggiungere scuola o posto di lavoro», ha dichiarato la presidente della conferenza dei sindaci del Valdarno, Aretino, Valentina Vadi. E con l'inizio del nuovo anno scolastico prosegue «la situazione rischia di diventare insostenibile. Soppressioni di treni, continui ritardi e mancanza di comunicazione rendono faticosa la vita dei pendolari del Valdarno». È tempo di ripensare a sanare le problematiche di lungo periodo e proseguire con l'azione di monitoraggio interrotta nel periodo estivo, ha aggiunto poi il sindaco Valerio Pianigiani in rappresentanza dei comuni del Valdarno-Fiorentino. In particolare ci preme tornare sull'annosa questione dei ritardi che anche in questi giorni sono stati pressanti. Inoltre è indispensabile riconfrontarsi su alcune ipotesi risolutive che erano state prospettate in sede dell'ultimo incontro. L'occasione deve quindi servire a trovare soluzioni realistiche ma soprattutto a verificare lo stato di avanzamento per il progetto del nuovo binario, intervento irrisolutivo ma a lungo termine, e l'acquisto dei nuovi treni pop che potrebbero migliorare nel breve periodo alcune situazioni. Proprio per questo abbiamo chiesto alla Regione Toscana di coinvolgere anche il Comitato Pendolari, essendo i fruitori diretti di quel servizio che ha urgente necessità di intervento.